ciao a tutti regà qui sempre balordo bob siamo qui questa volta a presentarvi un gameplay di gear up gioco praticamente che giocando guadagnerete questi gold che andrete a spendere nel part store dove vedete ci sono degli hull molti tipi e ci sono diciamo tutti quanti i pezzi per poter costruire un robot e poi andrete in build vehicle e qui avrete i pezzi da voi acquistati per diciamo per costruire il vostro robot vedete ogni pezzo ha le sue statistiche c'è la velocità massima la resistenza e la rotation speed queste cose qua un gioco molto veloce ogni partita dura 10 minuti e le partite sono state dai giocatori quindi non ho mai riscontrato problemi di varia lag però può capitare vedete c'è un team deathmatch ecco prendiamo ok start un match e vi faccio vedere com'è ok raga ok ragazzi eccoci qua abbiamo appena startato un match in gear up vediamo ora vi faccio vedere com'è com'è tacchiamo subito questo potta di lag esserda un attimo abbiamo iniziato gioco con una kill subito appena entrati nel match ah non avevo visto quello di dietro che snabbata comunque ragazzi non so se vi piacciono questo genere di giochi sinceramente Robocraft penso lo trovo migliore trovo migliore questo magari ha i robottini un po' più piccadini un po' più simpatici è più semplice perchè i robocraft avete proprio dei quadrati tipo alla minecraft dovete costruirvi proprio il vostro robò però ha un'ottima giocabilità diciamo questo non è che mi fa molto il partito anche perchè comunque è veramente gentile fanno problemi di larghi come vedete in questo match che sono partite o state da giocatori perché lo voglio gestare una partita ciao ciao me sono andata a fissar con quello là mi sono andata a fissar e me l'ha affatto fa comunque vedete le partite durano 10 minuti c'è deathmatch team deathmatch e conquest mi sembra e si togliamolo mi sembra conquest ancora non l'ho provata questa qui che abbiamo preso adesso è un'ottima di sua metti ciò come scarpi zao andiamo a trovare l'energia da quattro parte ancora la nooo per pochissimo orca miseria comunque ecco c'è poco da dire su questo gioco diciamo veramente veramente semplice come spesso che c'erano 10 minuti entrateli in una piena partita e niente questo mi hanno ammazzato la partita abbastanza equilibrata un po' trovo faccio un po' fatica per prendere in base dei pezzi che scegliete diciamo e le più rotazioni più solidarizzate ok 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 golden ok 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 Scusate. E' una bestia, non ne facevo niente, infatti vedi qua, comunque non è un gioco che mi piace proprio naturalmente, stavo facendo un video giusto per farvelo vedere, io non so come potrei vedere un 5, 5 e mezzo in scala da 1 a 10, non ce ne avete nulla, non ci sento in particolare, ma è vero proprio, guardate questo che ciaooo, quello era una bestia, eh, perché io ho pure, ah, c'ho pure i cannoncini quelli stupidi, è vero, magari ve lo tagliamo anche sul vino, e cambia, magari un'arma, un'arma, questo è un'arma, questo è sempre quello di prima che mi sfogna ogni tanto. Nono, ah! 3 Duran ma questo è un animale e a questo almeno un contatto che ricevo l'ho dimenticato perché c'è i cannoncini stupidi quelli di inizio livello poi non è che c'è un cannoncino i game questi fa sono partito stati dai giocatori quindi trovate e i cannoncini Grazie a tutti Grazie a tutti Nulla di che Ok ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Mettete un mi piace E ci vediamo alla prossima Bella A frappè Grazie a tutti Grazie a tutti